uomini e donne piccoli e grandi ricchi e poveri savi ignoranti ebrei e gentili ascoltate quello che vi sto per annunziare voglio spiegarvi qual è la fine che faranno quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio perché perché è una fine orribile è una fine orribile Gesù Cristo il figlio di Dio disse queste parole ai suoi apostoli andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato dunque dovete sapere che ciò che aspetta tutti coloro che non credono né l'Evangelo di Dio è la condanna la condanna è certa sicura non c'è alcun dubbio che gli increduli saranno condannati ora che cosa avverrà dunque che cosa avviene agli increduli quando muoiono? avviene questo che essi si dipartono dal corpo e scendono in un luogo di tormento chiamato Hades comunemente conosciuto con il termine inferno la saga scrittura parla di questo luogo Gesù ha parlato di questo luogo è un luogo reale è un luogo di tormento dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati e gli increduli sono tra coloro che muoiono nei loro peccati ora in questo luogo di tormento chiamato Hades c'è il fuoco si arde il fuoco che dunque non è un fuoco simbolico è un fuoco metaforico come dicono i bugiardi ma è un fuoco reale e in mezzo a questo fuoco le anime di coloro che appunto sono morti nei loro peccati in mezzo a questo fuoco sono tormentate capite dunque che cosa vi aspetta a voi che siete sotto il peccato se moriste in questo momento nella vostra incredulità ossia nei vostri peccati ve ne andreste dritti dritti all'inferno qualcuno dirà ma non c'è il purgatorio no il purgatorio non esiste purgatorio è un'invenzione di alcuni cosiddetti padri della chiesa ma non esiste nella sacra scrittura la sacra scrittura non parla di nessun purgatorio esiste l'inferno quello sì dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati e poi esiste il paradiso il regno dei cieli dove vanno coloro che muoiono in cristo ossia coloro che hanno creduto nell'evangelo o ubbidito all'evangelo e perseverano nella fede fino alla fine dunque esiste questo luogo di tormento dove voi che siete sotto il peccato siete diretti io naturalmente è mio dovere avvertirvi devo farlo guai a me se non lo facessi ciò che vi aspetta è la perdizione d'altronde siete sulla via della perdizione in quanto siete dei peccatori io quindi vi devo avvertire su dove state andando state andando in perdizione ma sono anche costretto perché l'amore di cristo mi costringe ad annunziarvi l'evangelo nella speranza che voi credendo nell'evangelo appunto siate salvati dai vostri peccati giustificati riconciliati con dio e quindi nella speranza così che voi possiate scampare a questa fine orribile a cui state andando incontro allora che cos'è l'evangelo? l'evangelo è la buona notizia che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò al terzo giorno secondo le scritture e che apparva ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questo è l'evangelo nel quale credendo l'uomo viene salvato perdonato giustificato riconciliato con Dio e ottiene la vita eterna e quindi viene strappato dalla potestà delle tenebre viene trasportato nel regno del figliolo di Dio viene strappato alla via della perdizione viene posto sulla via della salvezza viene strappato credendo nell'evangelo alle fiamme dell'inferno attenzione l'inferno o Hades è il luogo di tormento dove vanno le anime dei peccatori quindi è lo stato di coloro che sono morti nei loro peccati tra la loro stato tra la morte e la resurrezione perché? perché arriva il giorno in cui ci sarà la resurrezione degli ingiusti a questa resurrezione parteciperanno coloro che si trovano nell'Hades e che cosa accadrà in quel giorno quando appunto coloro che sono morti nei loro peccati risusciteranno essi compariranno davanti al trono di Dio per essere da lui giudicati secondo le loro opere e gettati in un luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte secondo perché la parte degli incredoli sarà là quindi lo stagno ardente di fuoco di zolfo è un altro luogo di tormento infatti si chiama Genna o fuoco eterno anche e in questo luogo di tormento gli incredoli saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli quindi per l'eternità il loro tormento non avrà mai fine quindi non date ascolto a coloro che vi dicono che poi in quel giorno ci sarà l'annichilimento dei malvagi non esiste nessun annichilimento dei malvagi i malvagi in quel giorno risorgeranno in risurrezione di giudizio per essere gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo quindi animo e corpo per esservi tormentati per l'eternità non illudetevi non illudetevi quindi capite qual è la fine di quelli che non ubiscono al Vangelo di Dio è una fine orribile lo ripeto orribile tremenda spaventosa ignominosa vergognosa e c'è solo una maniera per scampare a questo orribile fine vi dovete ravvedere e credere nell'Evangelo vi ho annunziato l'Evangelo ma vi devo annunziare anche il ravvedimento perché vi dovete ravvedere e credere nell'Evangelo ravvedersi significa cambiare mente dovete lasciare i vostri pensieri iniqui vani perché sono in abominio a Dio voi siete nemici nella vostra mente nemici di Dio nella vostra mente e quindi dovete lasciare i vostri iniqui pensieri dovete cambiare mente modo di pensare e poi credere nell'Evangelo allora qualcuno dirà ma allora la salvezza non è per opere no non è per opere se fosse per opere l'uomo una volta ottenuta si potrebbe gloriare nel cospetto di Dio di essersela meritata ma la salvezza è per grazie mediante la fede nell'Evangelo affinché nessuno si glori noi che abbiamo ottenuto questa così grande salvezza da Dio infatti ci gloriamo nel Signore noi non ci siamo meritati la salvezza noi l'abbiamo ricevuta gratuitamente da Dio il Dio è stato misericordioso verso di noi e abbiamo gustato la sua bontà e quindi il nostro desiderio è quello che anche voi che in questo momento siete senza Dio senza Cristo nel mondo anche voi possiate gustare la bontà di Dio ottenendo questa così grande salvezza dunque vi dicevo c'è solo una maniera una via per scampare a questa orribile fine vi dovete rivedere e credere nell'Evangelo ma allora qualcuno dirà io sono musulmano maometto non mi può salvare maometto non ti può salvare hai detto bene le tue opere le tue opere non ti possono salvare tu puoi essere salvato solamente ravvedendoti e credendo nell'Evangelo perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede dunque è solamente credendo nell'Evangelo che puoi essere giustificato non puoi essere giustificato facendo opere buone opere giuste di misericordia no puoi essere giustificato davanti a Dio solamente credendo nell'Evangelo appunto che ti ho annunziato e quindi la salvezza la giustificazione sono per grazia non per opere te lo ripeto affinché nessuno si glorie e naturalmente poi ci sono i cattolici romani che dicono ma allora io che mi vado a confessare al prete come sto messo stai messo male stai messo come stanno messi i musulmani sei sulla via della perdizione anche te perché perché il prete al quale tu ti vai a confessare non può rimetterti i tuoi peccati i tuoi peccati li può rimettere solo il Dio e il Dio rimette i peccati all'uomo quando l'uomo crede nell'Evangelo crede in Cristo Gesù perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome quindi non è andandoti a confessare da un prete da un vescovo da un cardinale o fino anche da colui che è chiamato Papa che otterrai la remissione dei peccati perché la remissione dei peccati la puoi ottenere soltanto te lo ripeto soltanto credendo nell'Evangelo di Dio ma allora Maria non mi può salvare dirà ancora il cattolico Maria non ti può salvare Maria la madre di Gesù è in cielo nella gloria Morisi di partire dal corpo andò ad abitare col Signore ma in cielo non intercede per nessuno non può fare alcunché nei tuoi confronti ma allora tu dirai non intercede per me no non intercede per nessuno c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini Cristo Gesù è in Lui che devi credere per essere per essere salvato e per ottenere la remissione dei tuoi peccati non c'è un altro mediatore oltre a Gesù lo so che ti hanno insegnato ad appoggiarti su tanti di quei mediatori intercessori che veramente non ne conosciamo il numero di questi intercessori e mediatori della Chiesa Cattolica Romana è vero che tra questi cosiddetti presunti intercessori e mediatori più importanti è Maria però ti posso assicurare che Maria e tutta la lunga schiera di intercessori e mediatori della Chiesa Cattolica Romana i cosiddetti santi i santi nel senso quelli come li definisce la Chiesa Cattolica Romana quelli fatti santi per esempio fatti santi dalla Chiesa Cattolica Romana con una cerimonia pomposa e inutile quelli non intercedono ma nemmeno nemmeno quelli veri di santi intercedono per coloro che sono sulla terra facciamo un esempio Paolo l'Apostolo Paolo l'Apostolo Pietro e così via l'Apostolo Giovanni non intercedono non sono degli intercessori sono in cielo nella gloria però non intercedono per i vivi che sono sulla terra quindi Cattolico Romano smetti di illuderti smetti di andare dal tuo prete a confessarti smetti di appoggiarti sulla presunta mediazione di Maria ravvediti e credi nell'Evangelo il Signore avrà misericordia di te ti perdonerà e ti giustificherà e gusterai la bontà di Dio e capirai finalmente che cosa significa essere essere salvato e poi una volta che il Signore ti ha salvato esci dalla Chiesa Cattolica Romana e unisciti ai Santi dell'Altissimo dunque la fine orribile che faranno quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio io ve l'ho fatta conoscere quindi chi tra voi un giorno si ritroverà all'inferno non potrà dire che non l'aveva avvertito non potrai dirlo non potrai dirlo ma non me l'aveva detto nessuno no io te l'ho annunziato te l'ho fatto sapere perché è giusto che tu lo sappia perché sei veramente sulla via della perdizione ed è una via che mena in un luogo orribile è il mio desiderio il mio sincero desiderio è che tu sia salvato quindi ravvediti o peccatore ravvediti e credi nell'Evangelo di Dio altrimenti sarai condannato io ti ho avvertito che orecchi da udire oda che orecchi da